ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di pensiero bianconero oggi facciamo un po' il punto sulla situazione Allegri perché se ne stanno dicendo tante prima di iniziare però vi invito come sempre a lasciare un like al video e a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto allora si continua a parlare di Massimilio Allegri e si continua a parlare nonostante arrivino conferme almeno presunte tali anche per questo ho voluto intitolare il video le parole le porta via il vento nonostante le conferme di Scanavino prima poi della gente di Allegri eh è chiaro che non è una situazione del tutto definita e io credo se ricordate lo dissi proprio dopo le parole di Scanavino quando tutti davano per fatto questo questo prolungamento del rapporto tra Allegri e la Juventus che secondo me quelle parole erano parte di un braccio di ferro perché in sostanza è un braccio di ferro però celato perché dico celato perché secondo me vige una regola non scritta tra la Juventus e Allegri il rispetto reciproco perché Allegri deve tanto la Juventus e perché la Juventus deve tanto comunque ad Allegri non solo per i sette anni in panchina ma credo anche soprattutto per come si sia comportato quest'anno per come abbia difeso la Juventus in prima persona quindi è un braccio di ferro nel quale è chiaro che poi le due parti in causa vogliono tutelarsi e tutelarsi vuol dire anche tutelare l'altro in questa situazione non so se sono stato chiaro e quindi conferme che secondo me sono dettate da questo principalmente ora però arrivano le voci di un interesse eh dalla rabbia per Massimilio Allegri allora secondo me la questione a rabbia potrebbe semplificare un po' il tutto nel senso e poi davvero eh Allegri potrebbe comunque decidere di lasciare la Juve secondo me non è convintissimo di continuare con la Juventus stessa cosa la Juventus non è convintissima di continuare con Allegri ma poi ci arrivo secondo me perché così dal lato Juventus eh può semplificare il tutto perché Allegri potrebbe accettare una situazione che è difficile anche da rifiutare cioè sarebbe una scelta secondo me si parla anche per quello che ho provato un po' a capire in totale tra premio alla firma e contratto siamo intorno ai 70 80 milioni di euro netti e è chiaro che sono tanti soldi è chiaro che lui potrebbe prendere questa decisione anche per sistemare a vita non tanto se stesso eh perché comunque anche la sua famiglia per carità però proprio sistemi a vita anche i nipoti nipoti dei tuoi nipoti dei tuoi nipoti dei tuoi nipoti sarebbero veramente tantissimi soldi e secondo me è difficile poi rifiutare un'offerta del genere anche perché poi c'è quell'altro lato e quindi quella non convinzione di poter continuare alla Juventus nel migliore dei modi io credo che comunque Allegri sia davanti ad un bivio una strada è quella di restare alla Juve e provare a dimostrare che ancora può essere un allenatore top che ancora può essere semplicemente un allenatore da Juventus sapendo però che è un rischio e che non è assolutamente facile soprattutto perché sembra abbastanza provato da questi due anni l'altra strada è quella di andare lì stare tranquillo farsi da montagna i soldi ma perdere tra virgolette la faccia perché dico perdere la faccia perché lui lo sappiamo che in questa battaglia ideologica che purtroppo secondo me lì è costata anche caro a livello di sicurezza e tranquillità si trova in una battaglia ideologica in cui lui vuole dimostrare che il suo modo di intendere calcio con una squadra fatta bene con delle situazioni idonee senza infortuni eccetera eccetera può essere ancora funzionale chiaro che andare in Arabia sarebbe un po' una sconfitta a questo punto di vista no sarebbe da quel punto di vista quasi una resa certo poi ci sarebbe tutto il tempo per tornare nel calcio che conta perché non è che Allegri sia anziano no però comunque al momento sarebbe una sconfitta e secondo me è quello lago della bilancia lui deve capire davvero cosa vuole fare della sua vita tra virgolette e sicuramente non sarà una decisione facile sicuramente un rialzo dell'offerta da parte degli arabi potrebbe facilitare un po' le cose ma ripeto secondo me è un braccio di ferro celato tra le due parti che difficilmente porterà al proseguimento del rapporto io mi aspetto che sinceramente già nei prossimi giorni ma veramente a stretto giro si saprà di più perché nonostante continuino ad arrivare con ferme sulla sua permanenza in panchina queste conferme legate a queste voci mi sanno più di fuffa e quindi più di impararsi al momento la faccia un nascondersi aspettando che succeda quel che deve succedere io ripeto secondo me alla fine Massimilio Allegri andrà via dalla Juve li do un 35 40 per cento ad oggi eh di permanenza e e bisognerà vedere anche quale ragionamento però che sta facendo la Juventus che poi è quello che ci interessa di più infatti eh per quello prima dicevo no la Juve allora come sta ragionando secondo me la Juve le idee possono essere anche abbastanza chiare almeno per quello che stiamo vedendo la Juve poteva permettersi Allegri più Tudorsi perché io lo ribadisco è vero che rinunciare ad Allegri ti costerebbe 42 milioni lordi ma tenerlo ti costa comunque 42 milioni lordi quindi ciò che tu dovresti aggiungere sono i soldi di un altro allenatore quindi per me la Juve avrebbe potuto fare Allegri più Tudor avrebbe potuto fare Allegri più Palladino avrebbe potuto fare Allegri più italiano e via dicendo e se non l'ha fatto possiamo iniziare a pensare che l'idea della Juve sia quella per un allenatore come Tudor Palladino via dicendo no teniamo Allegri qualora dovessimo trovare una soluzione e qualora Allegri dovesse andar via senza costarci troppo ecco che lì potremmo permetterci un allenatore un po' più costoso e che ne valga più la pena secondo loro vi dico secondo loro perché il nome che secondo me rappresenta un esempio per tutto ciò è quello di Antonio Conte è chiaro che Allegri e Conte insieme non te li puoi permettere perché sarebbe una spesa esagerata però il ragionamento che faccio io quadra da un punto di vista economico quindi secondo me la Juve ha ragionato davvero così poi io ripeto avrei preferito probabilmente Tudor o italiano o De Zerbi e via dicendo gente che guadagna meno di Conte probabilmente non sarà così ovviamente vi sto facendo dei nomi anche per De Zerbi e chiaro non è messo ad un vero obiettivo della Juve però è per per rendere l'idea sul costo di un allenatore e quindi questa è un po' la situazione la Juve sta aspettando ci sono tanti allenatori che se ci fate caso comunque non si stanno accasando Antonio Conte su tutti io non credo che Conte ad esempio possa restare fermo per un anno e quindi staremo a vedere ripeto sarà una situazione che si evolverà abbastanza in fretta e mi aspetto davvero ma davvero che oggi è 12 giugno il giorno di una settimana probabilmente sapremo qualcosa di più occhio però perché Allegri potrebbe a un certo punto magari in alcuni giorni in riflessione oltre e al di là dell'offerta araba secondo me cambiare idea e decidere comunque di lasciare la Juventus in un modo o nell'altro ovviamente poi si tratterebbe di andare verso buon'uscita e via dicendo quelle parole lì quelle parole di conferma secondo me sono dettate anche dal fatto del chiedersi un po' di tempo e prendersi un po' di tempo ragazzi vi aggiorneremo come sempre voi vi ripeto iscrivetevi al canale lasciate un like al video supportateci fino alla fine sempre Forza di Ventus